come 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 oggi pisa di pazzo di roblox mentre mappi in un solo video ragazzi come va io sono feri niki e sono stef che si chiama roblo e siamo tornati su roblox con un episodio un po diverso dal solito perché si giocheremo ben tre mappe in un solo video esattamente partiamo da prison life dato che non la giochiamo da un sacco di tempo vogliamo vedere se è cambiato qualcosa se c'è qualcosa di diverso facciamo diciamo una giornata da prigionieri vediamo un po se in prigione riusciamo a combinare qualcosa di interessante per ora è il periodo di stare in cortile siamo nel cortile seduti a chiacchierare noi ci godiamo il sole capito il sole di questa bellissima giornata anche se fuori diluvia però qui c'è bel tempo quindi va bene siamo pacifici infatti io non ho delle spade nella schiena no assolutamente pronte per ogni evenienza vieni qua ti devo dire una cosa dimmi allora no però dobbiamo stare da soli non mi dovete spingere però dimmi che c'è vieni qua vieni qua si si dai ci sono aia disgraziata ma come ti permetti vuoi ristare non vogliono vedere il risto nel cortile ma era per gli amicizie non stavamo litigando vieni 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 era in amicizie cioè quando vedi un tuo amico gli dai un pugno in faccia è una cosa di tutti i giorni non è per niente così solo tu lo pensi ma sì che lo è adesso mi faccio un po di tapirulane così divento più forte e sono pronto a sconfiggerti e vedo gente che viene sparato aspetta 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 che succede questa nel dubbio ok cosa hai preso continua a correre continua a correre fai finta di nulla spera che non ci sparino adesso salve poliziotto hanno ammazzato il poliziotto ok ci stiamo allenando e per terra è caduta la card per aprire le porte e l'è rubata sì l'ho nascosta quindi non sono sicuri che non lo sanno che io ce l'ho però in questo momento invece ce l'ho aspettiamo la notte e proviamo a fuggire qua però c'è un libro che vorrei sapere che cosa serve guarda che ti spara eh ti spara guarda guarda c'è la storia di un prigioniero qui diary of namapo secondo me spiega come fuggire però non ho voglia di leggerlo quindi non lo sapremo mai vabbè mi spiace diary of namapo diary of namapo sì ma ho un problema non mi si chiude pensiamo a mangiare un po' di roba ok assolutamente sì una a fianco agli altri perché siamo amici e mangiamo allora a fianco ma non troppo sto mangiando una mattonella poi eh un vaso in ceramica e del latte perché esteticamente sembra quello secondo me questo tipo è è liquido di qualche capito quello marrone secondo me è minestrone quello verde forse è una passata di verdura come me è liquido delle fogne guarda vieni 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 buongiorno sì sì sono qua per cucinare tranquilli allora adesso vedi è il free time quindi noi possiamo stare in cucina perché vogliamo appunto cucinare qualcosa giusto vieni 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 qualcuno apre la porta eccomi eccomi adesso abbassati come ci si abbassa con ci no ma è fantastica ce ne andiamo di qui è free time free time direttamente free time e vado perfetto questo cos'è vieni vieni qua non ci sono mai stato qui allora buongiorno oh le fogne bellissimo è da qui da dove prendono il pranzo abbiamo avuto abbiamo avuto la conferma che è così vengono qua al volo prendono un barilozzo di quest'acqua e ce la portano da far mangiare noi per protesta ce ne andiamo via proprio da qui adesso dove si va è quello che mi stavo chiedendo io andrei di qua scegliene una vai sì spero che sia la via per la salvezza non lo so mi sto solo mezzo baggando no non posso fare nulla da qui no anche tu sei caduta di sotto anche tu sì ma dai però mi ha fatto sei scappato ehi aspetta adesso sono in giro anche senza vestiti anche io ciao però i vestiti io ce li ho per fortuna wow che è successo me lo spieghi ci siamo baggati e ci ha considerato evasi un po' brutta come evasione direi mi aspettavo qualcosa di un po' più emozionante soprattutto mi hanno rubato anche i vestiti quindi non è stato proprio bello capito vediamo che è il prigioniero migliore io contro di te tu con la k io col fucile a pompa sei pronta sì andiamo ah stavi già iniziato a sparare certo aiuto pensavo dovresti fare un countdown o qualcosa del genere un po' più emozionante ma ho finito i proiettili devi ricaricare con R aspetta ricarichiamo ti sparo in faccia ok ma perché io non vedo la tua vita ma perché io non vedo la tua ma dannazione ma ci stiamo colpendo almeno credo di no aspetta aspetta prova a spararmi provo con questo col pompa ma non ci facciamo male io non sto scendendo di vita tu no neanche io che delusione che tristezza ci hanno rovinato il duello io spara questo ma anche a lui non fai male speravo di fare un bel duello entusiasmante ma evidentemente siccome siamo compagni di fughe non ci possiamo sparare a vicenda allora spara signor maialino schiatta adesso giochiamo un po' di speedrun 4 una delle mie mappe uffa l'ho emozionato poverino era così felice di presentare questa mappa e timpappini perché volevo dire che è una delle mie mappe preferite ma non ci abbiamo mai fatto un video perché a Ferinichi non piace quindi l'ho costretta almeno a correre un pochettino piace solo a lui piace solo a lui sei pronta? io queste cose strane non le sopporto sì non so come andremo ma sono pronta andiamo insieme vai insieme vai vai corri ah da qui si parte sì da parte almeno sono divertenti dai dai è il parkour più estremo questo è un po' più difficile più figo gli ultimi livelli sono impossibilissimi sapete cosa succede in ste mappe? io le provo sono super difficili quindi ci devi proprio tentare tantissime volte mi nervosisco chiudo tutto e non ci gioco più per quello non mi piacciono quindi non le faccio mai credo come la maggior parte delle persone esatto e poi ci sono gli staff che si divertono proprio a perdere a morire non si sa bene per quale motivo vai primo livello andato era semplice dai me la sono cavata pure io siamo nel deserto sei partita senza di me è antipatica ah andavamo a fare sempre ognuno e perché tanto non ci vediamo siamo talmente veloci io ti sto vedendo in questo momento ok e sei molto brutta correndo oh no eh sì no ho sbagliato salto oh eh invece Stef no perché non l'ho visto non riesco a vedere le cose o i riflessi di un bradipo davvero cioè non riesco la bravura è stare a prevedere cosa succederà capito? la mia mente proprio non comprende in questi casi forza ti aspetto non è vero vado da solo questa è la prima impegnativa se riesci a superare questa ti do il l'attestato ferinichi parkour abbastanza brava abbastanza abbastanza ma io sono la regina del parkour no insomma aiuto è complicatissima ma sei fatto? te l'ho detto questo livello ti mette proprio alla prova ah sono caduta proprio all'ultimo lo sai perché devi regolare i salti se no prendi i buchi non fai i salti giusti è proprio strano è proprio la fine la parte difficile esatto ma dai ma che sfiga ma sono inciampato ma non è possibile è perché c'è un po' scarso non sono per niente scarso dillo che c'è scarso sono bravissimo dillo che c'è scarso adesso arrivo e ti do una testata non ci provare te l'ado su serio quindi non mi farà la testata cadiamo insieme ma almeno ti stendo no è ricaduto come si fa l'ultima parte? guarda il mio guarda il mio hop là hop là no qui non ho problemi questa mi dà problemi non devi saltare vedi io non ho saltato ah ok non salto perché salto e vado direttamente nel buco che c'è in mezzo tra quelle pedale esatto ti frega ti frega adesso ci sono i minerali mi ero dimenticato di saltare guarda che strano è questa figo questo lo so figo solo i migliori ci arrivano non è vero mi sa che sono i livello 5 quanti livelli sono? sempre? allora quando ci avevo giocato io mi pare che fossero 25 livelli e vabbè e io ero arrivato al ah no aspetta quanti sono fammi vedere un pochettino adesso sono 28 se sono tutti quelli che c'erano prima senza che l'hanno aggiornato io ero arrivato tipo al 26 ce l'ho rimasto 30 minuti e mi ero arreso io ho già dato forfè non fa per me al numero 3? con te no no non mi interessa cioè io preferisco non farmi vedere arrabbiata ok quindi lascio perdere e rimango felice sì rimango felice ma guarda quanto è divertente se no distruggo la mappa guarda che bello guarda è troppissimo mi sta già levando gli occhi sto livello ma tanto questo è anche abbastanza semplice non mi ricordo il prossimo però questo è abbastanza semplice scusate devo entrare di qui e per concludere questo video come ultima mappa giochiamo a Dragon Ball che ci avete sempre consigliato l'abbiamo capita un pochettino ci siamo presi 5 minutini per capire la mappa e devo chiedere subito scusa ai consolini perché non l'abbiamo mai fatta perché no no è fantastico è una delle mappe sono felicissima e bellissima io devo dire questo le mappe di combattimento su Roblox non mi piacciono mai questa è divertentissima e poi vabbè non vale si può fare questo come 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 e io ti posso fare ancora una cosa anche migliore la vuoi vedere? sì fammi vedere vai stai fermo? sono pronto pronto ok cosa fai? mollami aiuto ho imparato st'abilità che è davvero fantastica dimmi che non è bellissima sei una patta scatenata meno male che posso volare abilità perfetta per Feriniki questa si dovrebbe chiamare abilità di Feriniki la Feriniki ability la Feriniki Dragon Throw però con Feriniki voglio provare allora aspetta io provo questa su di te la Bone Crash stai ferma? poi dopo facciamo un vero combattimento cosa ti ho fatto? ah praticamente mi prendi da dietro così e spezzi le Osam se non ricordo male su Dragon Ball dovrebbe essere così la mossa però non è riprodotta benissimo e poi c'è questa cos'è questa? voglio anch'io questo si chiama Lighting Burst è potentissimo allora la cosa figa poi di questo gioco è che noi abbiamo delle statistiche che si potenziano man mano che facciamo le abilità e con questi punti abilità compriamo tutte le mosse che abbiamo cioè è una figata praticamente queste sono le nostre statistiche che aumentano combattendo combattendo e su Dojo abbiamo tutte le abilità che possiamo imparare che infatti ci chiedono un tot di statistica prima di essere imparati allora io mentre ti impari quelle abilità sto picchiando un omino che c'è apposta nella mappa io ne ho imparato una che non so cosa sia vieni devo provarla subito su di te ma ci sono i manichini fatti apposta per queste cose no è meglio su di te non ne sono così sicura vieni dove stai ah sì lì sono dentro la montagna allora non so cosa farà però ha un nome brutto ok tipo Death Soldier ah no è il disco quello giallo ma è viola ce l'ho già io no ti ho rovinato la sorpresa vedi c'è questo da picchiare io me la prendo lo stesso con te lasciami in pace io vorrei imparare il Kaioken mi chiede Kaioken 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 mille su tutto ahia la meritavi quindi mi manca agility quindi aspetta che devo correre un pochettino ok tu hai un po' di calcio e pugni e ti fai anche l'attacco un sacco di cose fai sì ma devo allenare l'agility io quindi corri sì ok sono pronto sei pronta a vedermi sì allora moz Kaioken pronto vado vai come si fa forse devo no mi serve il tasto no non lo so il tasto il Kaioken non riesco in nessun modo a farlo funzionare sono tristissimo l'avrei troppo avuto a fare non sei un vero saiano però ho imparato il dirty fireworks sei pronta sì che succede non lo so ti sto lanciando oh si sono presente oh mio dio wow è bellissimo ma ti ho spaccato in due sì no è fantastico ma che potenza che ho avuto bellissima sta mappa bellissima magari lo rifacciamo anche in qualche live no si va perché secondo me guarda è fantastica sarebbe bellissima portarla anche in live bella 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 di sicuro ci sarà il sondaggio per chiedervi se volete altri video con appunto tante mappe insieme e nel caso magari che stiamo a parlare rimettiamo ogni volta perché è troppo bella allora io prendo a pugni un pochettino questo scusi scusi la sto dando a calce pugni però non abbiamo ancora fatto lo scontro uno contro uno guarda cosa mi ha provocato la tua mossa ahah sei pronto? sì dove sei? dove sei? vieni qua vicino a me che se no non capiamo nulla ok vieni qua arrivo guarda non mi reggo più in piedi no cioè posso solo volare se non volo non sto più in piedi no mi è distrutto totalmente scusami mi è distrutto guarda la mia faccia mi è distrutto non è colpa mia pensavo di perché mi è saltato tutti in te non pensavo di essere così forte e potente però so come non potrò mai più camminare so come curarti ci penso io come come ahah ciao